E sognando la California, il carro vincitore del Carnevale Palmese 2014. Si tratta della 28esima edizione che per qualche anno ha avuto una pausa, ma ha riprese in grande stile quest'anno con l'avvento del sindaco Pasquale Amato. La premiazione avrebbe dovuto avere luogo in piazza Provenzani, ma le avverse condizioni meteorologiche hanno spinto l'organizzatore dell'evento, il presidente dell'Associazione Antiche Tradizioni Popolari Pro Carnival, Gioacchino Cigna, a spostare la stessa nella saletta Convegni di Palazzo degli Scolopi. Al carro Sognando la California è andata la somma di 2.900 euro. Al secondo posto si è piazzato il carro Disney Pixar, tutti i cartoni che ho, che ha ricevuto il premio di 2.400 euro. Terzo posto invece per il carro Perla Nera, cui è andato il premio di 2.000 euro. Al quarto posto si è invece classificato il carro Tomorrow World, che ha ricevuto 1.300 euro, mentre a Tomorrowland sono andati 900 euro, essendosi classificato quinto. Il sesto ed ultimo posto è stato assegnato dalla giuria Giolli, simbolo del Carnevale Palmese, che ha ottenuto 500 euro. Non si è trattato dunque di una competizione, bensì di una spinta ad adoperarsi per Palma di Montechiaro e la sua collettività.